prova di atterraggio automatico con fx 79 dovrebbe atterrare circa in questa posizione radio ovviamente con gas al minimo in missione preprogrammata ok ancora sotto motore sta facendo la virata dalla base in finale circa lineato dovrebbe spegnere il motore tra 3 4 secondi ora ha sbagliato di 3 4 metri buono grazie grazie